Rompe il silenzio Don Claudio Rubagotti, parroco di Casalmaggiore, a qualche giorno di distanza dai vandalismi e dal principio d'incendio che hanno interessato la navatta di sinistra dell'uomo della zona del magazzino. Una vicenda per la quale sono stati identificati due ragazzi minorenni. Quanto è accaduto, spiega Don Claudio, non è un fatto isolato, in quanto da diverse settimane, sempre in tarda mattinata, qualcuno rompeva candele e sottraeva i cerini collocati per la devozione dei fedeli. Purtroppo, questo è il mio pensiero, è il rischio che si paga quando si sceglie, come ho fatto io, per una chiesa aperta ai fedeli. Mercoledì però si è andato ben oltre. Don Claudio, dopo aver fatto una sorta di cronistoria dell'accaduto, analizza la portata dell'evento. Quando le restauratrici Daniel e Fiorenza sono entrati in duomo hanno trovato cocci di ceramica sul pavimento della navata destra, davanti all'altare dell'ultima cena. Si trattava dell'acqua santiera, asportata dal suo basamento collocato all'ingresso della chiesa. Da questo gesto di vandalismo e di profanazione si è passato ad un'azione devastatrice che, oltre a distruggere il duomo, poteva compromettere la vita di quanti operavano sul cantiere. Al di là della domanda sul grado di coscienza e sull'età delle persone che hanno compiuto queste azioni, rimane la fotografia, entrare in un luogo pubblico, importante per il culto cristiano e per la rilevanza storica e artistica, per devastare proprio quando è in atto tutta una serie di interventi frutto di impegno e sacrifici dei fedeli per prendersi cura di quel luogo. Comeppure è oggettivo il disinteresse verso gli altri, ossia i lavoratori, in questo caso impegnati sul ponteggio del duomo. L'accaduto, attacca Don Claudio, è un'offesa non solo verso le persone, il sentire cristiano e il valore storico-artistico che il duomo rappresenta, è uccidere la libertà, la libertà ad esempio di entrare in chiesa, di sostare a pregare e a pensare, la libertà di goderti un quadro, un'architettura, la libertà di intravedere sin da lontano attraverso la cupola del suo duomo Casal Maggiore. Alla luce di queste considerazioni, lo stesso parroco ha rivelato di aver presentato alla stazione dei carabinieri di Casal Maggiore la denuncia per quanto accaduto.